centrale di oggi premio giorgio ianiri sono buoni tre anni non corre l'uno 2 compilation lorenzo baldi 3 kralg dsm afrin schmidra 4 cosmos prisma aurizio cheri 5 crone k alessandro gocciadoro 6 ceres pra vincenzo piscuoglio molto interessante la fase di lancio vediamo tutti a rete i cinque concorrenti stacco della macchina parte bene cosmos prizza al pari di crone k al suo esterno poi anche compilation lungo la corda siamo sulla curva con alessandro gocciadoro che riesce a sistemare il sauro crone k in seconda posizione davanti a compilation poi kralg dsm davanti a ceres prava 14 3 da parte dell'artente figlio di igor font di andrea sarzetto che è partito benissimo oggi ora cerca di graduarlo un po maurizio cheli arriva al paletto dei 400 metri in 29 e mezzo 15 2 abbastanza graduabile oggi cosmos prizza crone k si mantiene secondo davanti a compilation si è formato una fila indiana che probabilmente resisterà ancora lungo visto il valore degli avversari 600 metri in 45 due siamo al passaggio davanti alle tribuna con sempre in vantaggio cosmos prizza su crone k compilation kralg dsm ceres prava nessuno fa la prima mossa ma ora il ritmo è più veloce 14 8 qui davanti alle tribune primo giro in un minuto tondo tondo da parte del figlio di gor font crone k sempre lì nella sua scia davanti a compilation arriviamo al chilometro passato in 1 14 8 retta di là accenna a spostare all'esterno kralg dsm poi vediamo che invece ceres prava si infila di dentro intanto retta di la passata in 14 2 sempre cosmos prizzi in vantaggio crone k che lo segue come un'ombra poi kralg dsm che al cui schiena viene presa da ceres prava compilation sempre terza la corda siamo a 200 metri dalla conclusione ultima curva passata in 14 4 retta d'arrivo a lunga deciso cosmos prizzi e prende un paio di lunghezze su crone k cosmos prizzi rivisto in grande ordine oggi su crone k mentre per il terzo kralg dsm all'esterno e compilation di dentro 27 9 chiudere 13 e mezzo la retta d'arrivo 1 12 8 la media al chilometro per cosmos prizzi maurizio cheli al doppio in giornata sempre per andrea sarzetto la scuderia valle falconera abbiamo rivisto in bello spolvero il figlio di igor font sfortunato a roma ma oggi a bologna decisamente tutta un'altra cosa grazie 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 grazie